Da 2001 le donazioni di sangue in Toscana sono aumentate del 35%, una tendenza positiva confermata anche quest'anno con 209.000 donazioni, in pratica 102 ogni 1.000 abitanti. Il bilancio del sistema toscano, composto da 40 strutture trasfusionali pubbliche più 70 unità di raccolta delle associazioni Avis, Fratres e Ampas, è stato presentato dall'assessore regionale alla salute Daniela Scaramuccia con il direttore del centro regionale sangue Simona Carli. L'apporto di sangue è la condizione di base per il 70% delle attività sanitarie ed è per questo che l'implemento delle donazioni resta l'obiettivo prioritario. Questo è un obiettivo che ci riempie di orgoglio e che chiaramente è dovuto a un sistema consolidato e integrato, composto senza altro dalla regione, dai trasfusionisti, dai volontari, tanti che fortunatamente lavorano molto bene e con passione e soprattutto grazie al grande gruppo di donatori toscani che anche quest'anno si è incrementato e ha incrementato la produzione. In parallelo all'aumento delle donazioni è aumentato anche il consumo di sangue per l'alta qualità dell'assistenza. L'uso aumenta laddove la sanità lavora e lavora con diciamo un livello di eccellenza perché è vero che il sangue serve di più nelle patologie dell'anziano, serve di più soprattutto in caso di patologie oncologiche. In più la Toscana fa tanti interventi di cardiochirurgia, interventi di trapianti, interventi sui grossi vasi, interventi di ortopedia maggiore. La regione toscana in alcuni periodi dell'anno raggiunge l'autosufficienza di sangue, in altri proprio per l'alta qualità e la tipologia delle prestazioni sanitarie che eroga deve ricorrere al supporto di altre regioni. Può donare sangue chiunque abbia età compresa fra i 18 e i 65 anni e la donazione può essere anche prenotata in via informatica.